Siamo sempre così brave a sottovalutare le nostre capacità. Abbiamo sogni, progetti che vogliamo crescere, idee che potrebbero cambiare il mondo. E finiamo per rinchiudere tutto in un cassetto, convinte che non abbiamo le carte per farcela, che non siamo abbastanza forti, che per emergere dovremo scendere a compromessi con i nostri valori e che nessuno ci prenderà sul serio. Ma ogni volta che rinunciamo ad una sfida perché lasciamo vincere le nostre insicurezze, diamo ad altre donne il permesso di fare lo stesso. È arrivato il momento di cambiare le regole. Non possiamo pianificare ogni dettaglio sperando che il coraggio arrivi prima ancora di cominciare. Prepara un piano e poi buttati, sapendo che avrà delle falle, ma le risolverai strada facendo. È il momento di improvvisare con quello che hai, di osare invece che nasconderti, di rischiare invece che rinunciare in partenza. I sogni esistono per essere realizzati e unire le nostre forze è il modo per poterci riuscire.